Salve, oggi parliamo di sport. Sappiamo che lo sport fa bene per tanti motivi e sappiamo che è importante iniziare a praticare sport da giovani. Il motivo per cui questo è importante ce lo spiegherà oggi il professor Nicola Angelillo, insegnante di educazione fisica, a cui chiediamo, perché bisogna invogliare i ragazzi a praticare sport sin da piccoli? Bisogna invogliare a fare sport i ragazzi sin da piccoli, sia per quanto riguarda i benefici che abbiamo detto precedentemente, sia psicologici che fisici, ma anche per quanto riguarda i contatti sociali che un giovane può andare incontro nel momento in cui effettua sport. perché conosce effettua nuove amicizie, questo gli consente anche di crescere e di formarsi nella sua personalità in un ambiente sano, quindi in un ambiente sano fuori da stimoli e da situazioni che possono essere deleterie per lui nel momento in cui cresce, quindi al fuori di quello che può essere il suo ambiente, esempio devianze giovanili, esempio lo può anche fare in modo tale che lui non incorri in quelle che possono essere le varie situazioni che si possono creare nel periodo della preadolescenza e dell'adolescenza, quindi come ho detto prima le varie devianze giovanili. E poi un fatto anche importante è che attraverso lo sport il giovane, come ho detto prima, effettua degli ottimi contatti sociali, ma gli si consente anche di girare la propria regione e quindi conoscerla, di girare la nazione nella quale lui vive e anche al di fuori della nazione nella quale vive, poiché proprio lo sport ti dà la possibilità di girare un po' il mondo e quindi di conoscere anche luoghi, situazioni e personaggi anche di quel luogo, anche personaggi da un modo di vista culturale che i giovani forse e ce lo augurano l'abbiano studiato a scuola, poi si recano anche in quei posti e questo è importante soprattutto se praticano sport in una società sportiva che tutte le varie attività che vengono svolte al di fuori abbina sempre sport e cultura. Quindi ecco possiamo dire lo sport come cultura o applicazione della stessa, lo sport è anche competizione e questo può essere importante, sappiamo che molti ragazzi sono spinti a deccellere lo sport in cui praticano perché hanno dei sogni, perché hanno delle ambizioni, ma quanto è importante la competizione dello sport per il futuro dei nostri ragazzi? Comunque per quanto riguarda i sogni dei ragazzi non bisogna mai spegnerli e quindi di conseguenza è giusto che i ragazzi, quindi i bimbi nel periodo dell'infanzia, i preadolescenti e gli adolescenti comunque abbiano un sogno e noi come adulti non dobbiamo mai spegnere questo sogno e quindi dargli comunque queste opportunità, queste possibilità per farli sognare. Poi quando si è importante anche per la motivazione è anche legata a questo sogno perché noi, i nostri ragazzi comunque qualsiasi disciplina che praticano, la praticano anche vedendo il loro idolo in quello sport, il loro idolo e quindi sognano eventualmente di raggiungere quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti appunto dal loro idolo. Benissimo, ringraziamo il professor Nicola Angelillo e arrivederci alla prossima puntata.